La via internazionale alla crescita sempre di più passa per la Serbia. E' una crescita che è una crescita di un'impresa italiana, ma che è una crescita che porta crescita anche in Serbia. E' un momento importante in cui si tratta di una crescita italiana, ma in questo momento si tratta di una crescita anche in Serbia. E' un momento importante in cui proprio la Serbia è impegnata in un'azione di consolidamento fiscale e di disciplina fiscale che richiede al tempo stesso una grande spinta alla crescita. La settimana scorsa il primo ministro era, anzi lunedì, il primo ministro era a Bruxelles per la riunione degli amici della Serbia. Il mio augurio è che con iniziative come questa l'Italia e la Serbia da amici crescano insieme verso il futuro europeo comune.